Altro che isola felice, l'Abruzzo sempre più terra di conquista per organizzazioni criminali di stampo mafioso. Il professor Fulvio Berghella, uno dei più noti consulenti antiriciclaggio in Italia, ospite oggi ad un convegno ad Ortona sull'usura organizzato da Lions Club, ci aiuta ad avere un quadro più chiaro su quanto sta avvenendo nella nostra regione da qualche anno in qua. Intanto una divisione in due macro aree, la fascia costiera, terra di conquista per gruppi criminali pugliesi e stranieri, e la fascia appenninico interna dove ricostruzione post-sisma, gestione dei pascoli e sfaccio di droga sono i campi di azione per organizzazioni laziali e campane. Dalle ultime operazioni delle forze di polizia poi emerge una diffusione a macchia di leopardo di presenza dell'Andrangheta, in particolare nel Terramano e nel Pescherese, a Teramo con l'Andrangheta crotonese e soggetti vicini alla cosca dei Piromalli, a Pescara con forti interessi legati alla grande distribuzione alimentare ai fini di riciclaggio, con la presenza di imprenditori reggini contigui alla cosca De Stefano. Il contesto emerge non solo da operazioni di polizia molto significative, anche riportate dalle croniche, ma anche dal crescente numero di segnalazioni di operazioni sospette che ogni anno i soggetti tenuti a partire da banche, poste italiane e altri operatori inviano all'unità di informazione finanziaria per l'Italia, che le analizza, le verifica, laddove le ritiene utile, le gira la divisione investigativa antimafia se sono interessanti per la criminalità organizzata, altrimenti alla Guardia di Finanza per gli accertamenti amministrativi ordinari. In ogni caso queste segnalazioni vanno alla direzione nazionale antimafia che le tratta e le mette in relazione tutto il contesto nazionale. Nella 2022 sono 2.334 le operazioni sospette segnalate contro le 253 del 2008. In Italia ben 150.000 considerate le proporzioni, la nostra regione è in perfetta media nazionale. A queste sono strettamente legati anche fenomeni di usura che negli ultimi vent'anni, grazie a norme sempre più stringenti, si sono trasformate. Diminuiscono i fenomeni di usura ordinaria, dove piccoli criminali si limitano a rinnovare le scadenze alzando a dismisura i tassi ed aumentano fenomeni di usura strutturale. Lì l'obiettivo è un altro, è impossessarsi del bene, impossessarsi dell'esercizio commerciale, della piccola industria, quindi fare finanziamenti, ma le scadenze non rinnovano la scadenza, ma chiedono in cambio contratti, cessioni di beni, in maniera da avere quel tipo di esercizio. Questo consente poi loro di utilizzare quell'esercizio per riciclare denaro. Come ci si difende, al di là ovviamente del ricorso per i privati alle autorità giudiziarie, anche sotto l'aspetto legislativo da questo punto di vista ci sono importanti novità? Ci sarà la sesta direttiva antiriciclaggio, i cui destinatari saranno le autorità di controllo, ci sarà una nuova autorità con sede a Francoforte, chiamata AMLA, che è l'autorità europea antiriciclaggio, che avrà compiti di vigilanza diretti sulle principali banche, indirette attraverso le strutture nazionali sulle minori, emanerà regolamenti secondari, sistemi di controllo standard, coordinerà tutte le unità di informazioni finanziarie, e quindi andremo verso un apparato europeo consolidato che è unico al mondo come sistema di controllo.